Professor Lucconi, cosa si intende per naturalizzazione? Essenzialmente la naturalizzazione è un processo che consente a coloro che sono stranieri e immigrati negli Stati Uniti di acquisire nel corso del tempo la cittadinanza statunitense. Di solito è necessaria una residenza nel paese di 5 anni nonché ottemperare a una serie di norme, di requisiti che nel corso del tempo hanno esercitato anche una funzione di filtro per quanto riguardava la cittadinanza stessa. Gli Stati Uniti sono un esempio di integrazione etnica o no? Diciamo che nel lungo periodo lo sono diventati. Intendo dire essenzialmente che alle origini soprattutto l'accesso alla cittadinanza era strettamente vincolato ed era vincolato in maniera tale da far sì che potessero naturalizzarsi soltanto quegli individui le cui caratteristiche contribuivano a mantenere l'omogeneità della società statunitense. Detto in termini molto semplici, a partire dal 1790, ovvero sia quasi all'alba della vita degli Stati Uniti, fu stabilito che la concessione della cittadinanza sarebbe stata riservata soltanto agli individui liberi di razza bianca. Quindi questa era una maniera per escludere gli afroamericani e per escludere anche immigrati provenienti da regioni del globo che non si identificassero con l'Europa. Successivamente nel 1870 è stata ampliata la gamma delle persone che avrebbero potuto usufruire della cittadinanza statunitense, richiedere la naturalizzazione e quindi accanto ai bianchi fu collocata la popolazione di origine o di ascendenza africana e quindi rimasero esclusi immigrati provenienti dall'Asia. In coincidenza con la Seconda Guerra Mondiale fu consentita l'accesso alla cittadinanza anche ai cinesi, che in quel momento erano alleati degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, e agli autoctoni dell'emisfero occidentale. Quindi ci furono dei vincoli legati all'appartenenza raziale dell'individuo che caddero definitivamente soltanto nel 1952, quando la razza non costituì più una possibile preclusione all'acquisizione della cittadinanza. Quindi nel lungo periodo siamo arrivati a una integrazione, a una società multietnica, multiraziale. Però questo è stato un processo lungo, faticoso e tormentoso, che poi alla fin fine ha fatto sì che alcune forme di discriminazione legate all'ascendenza etnica e all'appartenenza raziale comunque venissero reintrodotte nella vita quotidiana. Quindi in linea di principio gli Stati Uniti sono una società multiraziale, sono una società multietnica, sono una società integrata, come dimostra anche il fatto che il presidente attuale è un individuo di colore, ma si tratta di un percorso molto lungo da un punto di vista storico, che poi, ripeto, nella vita quotidiana a volte ha dato luogo anche a violazioni di questa apparente integrazione. Quando nascono i clandestini negli Stati Uniti? Dunque i clandestini come figura giuridica nascono nel momento in cui gli Stati Uniti hanno iniziato a limitare l'immigrazione. Una cosa singolare per quanto riguarda la storia statunitense è il fatto che mentre fin da subito furono introdotte delle norme che limitavano l'accesso alla cittadinanza, fino alla fine dell'Ottocento, in particolare fino al 1882, l'ingresso nel paese fu sostanzialmente libero e indiscriminato, cioè chiunque poteva trasferirsi negli Stati Uniti, ma non tutti potevano aspirare a diventare cittadini degli Stati Uniti. Quindi fino al 1882, quando viene varata la prima legge restrittiva sulla immigrazione, la figura del clandestino giuridicamente non esiste in quanto non esistono ostacoli al trasferimento di individui all'interno del territorio degli Stati Uniti. Va anche detto che la legge del 1882 penalizzava esclusivamente i cinesi e per motivi di lontananza geografica anche le violazioni di questa legge furono estremamente contenute. Per arrivare a una presenza quantitativamente rilevante di clandestini bisogna aspettare fino alle leggi del 1921 e del 1924 che escludevano, anzi più che escludevano, contingentavano l'emigrazione dall'Europa meridionale e dall'Europa orientale, penalizzando per esempio gli italiani che potevano usufruire di una quota massima di visti intorno alle 5000 unità l'anno, molti italiani cominciarono a girare queste norme entrando illegalmente dal Canada, cioè immigravano in Canada e poi attraversavano la frontiera tra il Canada e gli Stati Uniti che per quel periodo non era particolarmente controllata. L'immigrazione clandestina è soprattutto a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che ha cominciato a diventare un problema e addirittura oggi è quasi una emergenza sociale negli Stati Uniti ed è legata all'afflusso di clandestini dall'America centrale, in particolare dal Messico. Però, ripeto, è un fenomeno che per essere quantitativamente rilevante è necessario spostarsi quasi ai giorni nostri, insomma anni 50, anni 60. P forestità Uniti Salute Punto 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 Grazie a tutti.